Easy Go Hey Cop, Leon ti stava portando questo Oh Dick È una saggia decisione Molto saggia Fa un giro da Manny Forse lui può aiutarti con la tua moto Dove te la fassi? Manny, che succede? Fa un potenziale Te l'ho incarto subito Bene, hai bisogno d'altro? Ottima scelta amico, ottima scelta Ah sì, è un gran bel pezzo Non te ne pentirai Te l'ho incarto subito D'accordo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti